Dopo le stragi di Parigi, Hollande dichiara che la Francia è in guerra e invita i partner europei ad attivarsi e mentre il primo ministro Valls fa sapere che la Francia sarà costretta a non rispettare gli impegni di bilancio comunitari per concentrare le risorse nella sicurezza e la prevenzione, il presidente Hollande, per distruggere l'ISIS, chiede la modifica degli articoli della Costituzione sullo stato di guerra. Nuovi raid francesi a Racca, mentre prosegue la caccia all'uomo in tutta Europa. A Bruxelles, intanto, i ministri della difesa europei si riuniscono con il segretario generale della Nato, Stoltenberg. Il nostro paese, dichiara il premier Matteo Renzi, garantisce il suo impegno sul fronte internazionale, invocando però una visione strategica e sul fronte interno accoglie la sfida di coniugare integrazione e accoglienza. L'Italia reagirà con fermezza, dice Mattarella, ma la politica è divisa. Le guerre sbagliate hanno alimentato il terrorismo, gli interventi in Iraq, in Libia, in Afghanistan, sono stati disastrosi. L'Isis è un'altra cosa, l'Isis va eliminata dalla faccia della terra. Sono preoccupato da quelli che pensano di dialogare con l'Isis, quindi dall'Europa, dall'Italia, o di qua o di là. O con Putin e con la Francia, o con i terroristi. La Lega sceglie di stare con Putin e con la Francia. Occorre unità d'azione. Noi abbiamo fatto una proposta chiara che l'Europa, che l'Italia e l'Europa rinuncino unilateralmente alle sanzioni contro la Federazione russa. Perché questo sarebbe un atto straordinariamente forte e simbolico per rappresentare e per consentire la grande alleanza tra Stati Uniti, Europa, Federazione russa, magari la Cina, contro il Daesh, l'Isis, il Califato. Il livello di preoccupazione cresce con il giubileo, afferma Alfano. L'agenda del Papa non cambia e i musulmani siano coinvolti nell'anno santo. Il Viminale intanto corre ai ripari facendo entrare anche gli eventi che prevedono un afflusso elevato di persone tra gli obiettivi da tutelare.